no ehi guarda dice qua noi non abbiamo neanche un tanto tipo non riuscire mai a prenderla oh l'hai presa di dirò che ci sei dai buona non senti di che è sparito guardati ascoltare nessuno oh ho pronto attare che dove sta andando secondo te? volevamo dire eh? Si vuole far grabare no vai via che cazzo io mi sto fidando tolle sincera con me grazie a lui hai vai a doppia punti d'oppia punti via no non avevo il flash per scappare ehhh Ace ma che non ci sfascia la base se è intelligente no troppo stupido che sfasciarci la base deve andare a botte dove sta andando ma cazzo ma c'era questo inibito senza nessuna protezione è andata a botte si si fa nessun danno cazzo mi capito bello vai bene bene dovrebbe il baronac e andrà a farlo ok fast arrivo non c'era nessuno fai su una stupido spaventa scimmie non so cosa sei poveri scimmie spaventa passi andiamo senza il nostro genre sto arrivando io e il mio mille smith perché non farvi lo smith stilare sto correndo adesso il baron un free baron qua c'è anche un free sin secondo me ma guarda c'è un free nocturne e ti scappa sempre ho troppa paura prima guardavo proprio sulla nostra prima beccato proprio sulla nostra ferrer se lo vuoi si si me lo piglio su ti diverti a face check se scusi tipo vuoi morire guarda face check face check face check è il miglior modo per morire lo stilo con il ferr oh c'è l'isind andiamo 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 a cosa facendo l'isind oh c'è l'isind cosa fai oh gli ho fatto mancare la cù oh grande no bellissima no che stilata perchè tipo lui è andato dall'altra parte di doppia v perchè ha messo la ward io gli avevo fatto la ulti in faccia quindi mi è ma teletrasportata anche a me oltre io sono molto fratrici sofferenze oh qui lì c'è un trash che vola oh cazzo quanti danni fa lux si i luoghi mi guarda male e muoio varus melmode varus melmode varus rambo style ma chi è il capore bravo varus ma sono italiani loro eh si eh taric e cassa di no ma anche gli avversari no gli avversari no forso no no parango no parango tango hey bella zio ho intanto la mia lane è quella che regge dai ma tipo super perso ma chi se ne frega never supermio si si noi continueremo a fare il bar in defy tipo ci sciottano ma anche perchè io non riuscivo mai a ingaggiare se fa la mia ulti la mia ulti fa malissimo se riuscisse a colpirli tutti fa 500 danni al secondo la mia ulti si che vuol dire però vuol dire qualcosa ti prendo lux ti prendo più arrivo io posso correre ma guarda lux quanto male fa il mio questo minion ma guarda boom esplodi guarda questo porco 400 di vita però devo riprenderla quindi andiamo a farci le raise va a dire a fattà così mi prendo lo caro blu vai ho ripreso la vita help me please no lea è tutto mio ma è riuscito a stare accanto a me una volta nella vita io devo ultare se lo perdiamo no cazzo me l'hai rubato se ne frega lui ruba tutto si adesso ti nel peggio scrivere sulla faccia della terra mi metti la lombra qua per favore quando puoi si quante cazzo di voi boom un caffè spariti nel senso della parola si ho taric aiutami no sono stato bindato che cazzo scappo scappa ho appena su grab dai 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 no lux mi ha preso che cazzo sono salvo devo delcare vita Bene, ho abbastanza vita adesso Ve lo fate? Ma cosa ce lo facciamo? Sta arrivando una Lux arrabbiatissima Però mi sta rompendo Lux adesso Mi hai rotto i coglioni Lux Oh E non ci faremo più No, io ci sono Sede vai top per favore Sì Guarda se succede un minuto La saggezza Dolisi è incazzatissimo Non viene però che fallo Volevo ucciderlo Hanno dieci chili in più di... No, lascia break, lascia No, ne hanno solo otto Lascia break Uè, tutti i miei Possiamo vincere Oh, mi ha preso io Io preso loro piccolino Piccino Quello grosso lo preso Un map control Non abbiamo neanche una world No, sì Cos'è il map control? Non ne abbiamo bisogno noi Basta che ascoltare una o due persone E vinciamo Siamo dalle sim Dovevi morire Qui si incollora con Non abbiamo guardo Secondo me è qui o qua? È andato via Lì sì Non c'è È andato via Oh, è in mid Dove eravamo noi prima Si sta prendendo per il culo Tipo Vieni qua Non scappare Abbiamo vision C'erano Riesca a capire dove sono per ultare Ciò non è buono Eh sì È cacazzo Si chiamano world Vabbè hanno un leesine Che per Per attaccare Vanno No, bastardo Un mouse da rubarmi la roba Vabbè tipo Loro leesine Che per attaccare Spam a world Spam a world Word Oh cazzo Oh cazzo 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 Dove cazzo Sono? Mi ero perso Boom Multi su quattro persone Knockbackate Boom Bum Bici La ulti tua Funziona anche sotto zona Vero Anche su Sotto zona Sì certo Fata apposta Tipo sono Scomparsi Sì sì Pento Chi No Cusciate con la torre Dai sono scomparsi Non sono solo due persone Bravo Cassa di un bravo Bella Eh ti ha scoperto la cupola Double Ehi Busciate Dai Ultimo item Io faccio una bella Yumumu Yumumu Ghostblade Sì che mi da Critico Attack speed Mi è forte Yumumu Ghostblade Mi merita Visto che si poteva vincere Bastava che azzeca Su uno stupido Ulf Io continuo a pushare Che se ne frega Sì sì Sono bene Splitpool Eh sì guarda Sono ancora in respawn Tutti e cinque Lo vi ci facciamo a vincere con questa Mi sassi Noi no 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 no? a caso di perdere al minuto 15 mamma mia di tv quindi questo ci insegna a non surrendare mai un saluto al suso ai mini a brazon e al vederci al prossimo video